La serata non poteva essere meglio organizzata per la presenza di due grandissimi cantanti della terra di Sicilia, diceva Tony, la sicilianità, perché va a dire presentatrice, e catanesi, uno è quasi catanese, Megala e di Augusta, l'altro. Abbiamo subito il piacere di accogliere, vi prego di accogliere con un grande applauso, perché ho avuto modo più volte di sentirelo nel nostro teatro, ma anche fuori. Egli cantò al teatro de Champs-Élysées alcuni brani in Berlini e dopo il duetto dei puritani. Il successo fu talmente grande, il pubblico in delirio, l'amico Michela Vaspina era presente, il giornalista Michela Vaspina, 20 minuti di applausi a questo magnifico tenore che è Salvatore Fisichella. Applausi. 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 di Catania per questo grande vanto della nostra terra siciliana, per Salvatore Fisichella. Possiamo subito partire con, vi avevo anticipato, sono dei brani che vogliono omaggiare il grande Giuseppe Di Stefano e inizieremo con una preghiera, una preghiera che vuole essere questo nostro abbraccio di speranza nei confronti del grande tenore. L'Ave Maria di Charles d'Ono. Ci spingiamo quindi insieme in questa Ave Maria di D'Ono. Ave Maria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Maria 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 Santa Maria